A tutti buon pomeriggio da Ripodono Marcoveggio, convegno del 5 marzo, giornata particolare che è dedicata a Cocco BFC che ha vinto a fine gennaio un gran premio in Francia, è dedicata a tutta la sua scuderia, al suo team, in cui ogni corsa viene appunto denominata con un cavallo della scuderia. Intanto macchina che accelera, partiti l'errore della favoritissima De'Ledda e così si avvantaggia Drogon Run dall'esterno. Drogon Run leader ha sbagliato anche Diana Bai Bai, quindi due più attesi, la favoritissima e l'alternativa principale. Subito di galoppo e Drogon Run ne ha approfittato per assumere l'iniziativa e guidare dopo 200 metri in 14,7. In seconda posizione c'è Diana Trio, più indietro Danilo Spritz, mentre cerca di inseguire, ci sembra De'Ledda, ma è ancora lontana dalla testa, una trentina di metri. Intanto completato in 33, il primo quarto di gara, in vantaggio è sempre Drogon Run, che guida il completamento dei 600. La seconda posizione per Diana Trio, mentre in terza c'è la mossa di Danilo Spritz, che è seguito da De'Ledda, che prova a recuperare un gap che inizialmente era almeno di 60 metri e che si è ridotto a una quindicina. 30,9 il secondo quarto di gara, ma è sempre Drogon Run a condurre tranquillamente quando siamo all'altezza del chilometro, in 1,16,4. La seconda posizione è la corda per Diana Trio, che ha all'esterno Danilo Spritz, e poi De'Ledda che si impegna ancora, ma è distante praticamente sempre quelle sei lunghezze dalla testa. Si affronta l'ultima curva con Drogon Run che ha accelerato, un parziale in 14,4, va per Varchi, ora De'Ledda che segue direttamente Diana Trio, mentre all'esterno Danilo Spritz cerca di progredire ulteriormente. Retta d'arrivo con Drogon Run che si presenta in solitaria. Drogon Run nel finale controlla la situazione e viene a concludere vincitore. Prima vittoria in carriera per Drogon Run che vince su Danilo Spritz, mentre per il terzo forse De'Ledda riesce ad avere ragione di Diana Trio. Bel successo dunque per Drogon Run, agevolato dall'errore di De'Ledda e di Diana Bai Bai, soprattutto di De'Ledda ovviamente. E quindi successo per Drogon Run, e di Stefano in sediolo per il training di Lorenzo Baldi, per conto del signor Amedeo Severino. 5-2-3, questo ancora in via ufficiosa, l'ordine d'arrivo della prima corsa Arcoveggio. Grazie a tutti.